Mespertino e Pasqua col 118 Acura! 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 Eccoci qua, buonasera professore Buonasera a lei, cosa abbiamo? Beh questo paziente si è ferito alla mano mentre faceva giardinaggio Ah, pollice verde? No, pollice l'avanivoro, perché chi su scafazzò Attenzione, cominciamo, amore Dai, per favore Forza, controlliamo i vasi sanguigni Vasi sanguigni assenti Come assenti? Eh, ci piacciono i vasi di terracotta Attenzione, eh Acura, dai, veramente Come si chiama la paziente? Anna Anna come? Annaffiare più spesso, perché si andano seccando tutte cose Attenzione Acura, oh La pianta del piede? Sì, come già, il denier era la pianta del piede Ora c'è l'albero la mano C'è, un cespuglio rugoso Un cespuglio rugoso Attenzione Acura, oh Torniamo al paziente Sì Si lamenta? Sì, lamenta, basilico, pomerà Attenzione Fa il cura Gio, senta Signore 18 Pronto, pronto? Sono pronto Sì, scicciotto, buonasera Come si, allora, non lo sai Problemi alla parte superiore dell'intestino Tenue Ah, mi scusi Problemi alla parte superiore Più tenue Senta, guardi, lasci stare Per cortesia Serve un campione di feci Vabbè, perché ora c'è problema Chissà, dicino Certo, perché glielo dico io Che sono il primario Serve un campione di feci Certo, perché alleggero una coppa Quando finisci a cacare Un campione Signore Un campione Un campione di feci A per favore Sisto Sì, scicciotto